E' una democrazia. Evviva il copy! Abbiamo formato il coordinamento dei detenuti in lotta. E il diritto dei detenuti a fuggire. Voglio che tu mi iscrivas al sindacato. Voglio uscire da qui. Che vuoi una rivolta? Di noi non importa nessuno. Abbiamo diritto a un'amnistia generale. Questo paese è per i figli dei padroni. Se il paese ricomincia da zero, allora anche noi. Io ti credo. Non cambierà mai niente. Fuggiamo adesso. Mi chiedo fuori, figli di puttana. Mi chiedo fuori, figli di puttana. Ciao ciao. Mi chiedo fuori, figli di puttana. E' la partita. Facciamo fermare ci chiamaci tanto. Possiamo continuare. Grazie. 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 Sì. C'è una cosa più forte. Grazie a tutti. Libertà, attristia! Libertà, attristia!